La proposta consiste nel fatto di fare come è stato fatto in altre città, di dotare i dipendenti che vengono a lavorare in bicicletta di un'app che registra quanti chilometri vengono fatti e dare un incentivo di un 0,25 euro ad ogni dipendente per il chilometro fatto fino ad un massimo di 50 euro. Questa è la proposta che ADL Cobas fa al comune di Padova, presentato il progetto Bike to Work al lavoro in bicicletta. I dipendenti comunali sono 10.000, anche se solo 3.000 lavoratori andassero in bicicletta sarebbero molte auto in meno in giro per la città. Dall'altra parte investire invece su quello che è l'abbonamento del trasporto pubblico, così come viene fatto in molte altre città e come fa direttamente anche l'Università di Padova, per garantire ai dipendenti l'uso del mezzo pubblico e quindi costringerli a lasciare a casa la macchina. Sono già molte le città che offrono questo servizio ai lavoratori, sarebbe richiesto solo l'utilizzo di una app nel proprio telefono che permetterebbe di registrare chilometri fatti. I costi per il comune sarebbero minimi, mentre i benefici sarebbero enormi per tutta la città, dicono gli esponenti ADL. Investire in questo senso perché guadagniamo tutti in salute, riduciamo l'inquinamento, riduciamo quello che è il traffico all'interno della città. Certamente non potrà interessare tutti i 10.000 lavoratori, ma sicuramente una parte consistente sì.